Meghan Markle e il principe Harry non supereranno una festa di compleanno di celebrità di questo mese, ha affermato un esperto reale. Meghan Markle, 40 anni, e il principe Harry, 36, sono stati esclusi dalla lista degli invitati alla festa di compleanno di Barack Obama all'inizio di questo mese una mossa che i reali non supereranno, ha affermato l'esperta reale Angela Levin. Camilla Tomaini, editore associato del Telegraph, ha affermato che l'intervista dei Sussex con Oprah Winfrey non è andata bene con l'ex presidente degli Stati Uniti e First Lady che ha sempre messo la famiglia al primo posto, il presentatore di Talk Radio Mike Graham ha dichiarato. Naturalmente sappiamo che in realtà non hanno amici e gli unici amici che hanno o che contano come amici sono tutte le persone che sono state invitate alla festa per il sessantesimo compleanno di Barack Obama. Ma non l'hanno fatto. La signora Levin ha aggiunto. Esatto. Sono sicuro che non l'hanno superato e non lo faranno per molti anni. Arriva mentre il duca e la duchessa del Sussex sono destinati ad avere un periodo impegnativo dopo l'arrivo del loro secondo figlio mentre i Sussex lanciano contenuti per i loro progetti Netflix e Spotify. Harry e Meghan hanno firmato contratti multimilionari con Netflix e Spotify per creare contenuti per le piattaforme dopo aver lasciato la famiglia reale nel marzo 2020. Il commentatore reale Omid Scobie ha affermato che dopo mesi di congedo per la coppia reale, si stanno preparando per un periodo impegnativo. Ha detto che i fan reali capiranno perché il loro trasferimento negli Stati Uniti è stato così importante per loro. Parlando con Good Morning America, Scobie ha dichiarato. Una delle lezioni apprese dalla coppia è stata che va bene rallentare. Li abbiamo visti saltare da un grande progetto all'altro, soprattutto quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, ma al momento sono in congedo parentale, godendosi quell'importante momento familiare da casa. Ma stiamo per entrare in un periodo molto impegnativo per la coppia quando tornerà al lavoro.